Stiamo sbattando da Bambuola. Che salutano il pubblico ancora una volta. Tutti i siciliani, perché dalla partenza di Palermo fino qui a Campania. Un pari con casa Ferrari e con casa Fiat. Guido d'Amore, secondi classificati alla 99esima, Targa Florio. Con Anna abbiamo davvero soddisfatto. Sì, siamo veramente molto soddisfatti. Sono i francesi, Sébastien Chardonnay e Guido de Laian. I protagonisti della 99esima, Targa Florio, la conferma. La passione è una cosa molto importante. E allora iniziamo con i terzi classificati al navigatore dell'equipaggio terzo classificato. Va anche il terzo classificato. Invece i premi della 99esima edizione della Targa Florio. Li consigliano il sindaco di Caratteri, Giacomo Ivardo. Paolo Andreucci e per l'ottana ad Anna Andreucci. I loro sono i vincitori della 99esima edizione della Targa Florio. Consegnano il sindaco e il vice sindaco di... San Fran, stramante! Il meglio! Sono gli occhi della direzione gara lungo le prove.